Hola a tutti ragazzi, nel vostro Lucia oggi, come state vedendo qui davanti a voi Siamo su un gioco che nessuno si aspettava, nemmeno io Tant'è vero ragazzi che non ho mai giocato a Fortnite È il gioco del momento, il gioco più giocato, vedo che tutti ne parlano bene Allora dico, perché non provare a giocare? Quindi ragazzi, preparatevi a scrivermi scarso quello che volete nei commenti, ma io farò pena Detto questo, giochiamo ragazzi, non so nemmeno i comandi, quindi andrò abbastanza d'intuito Non vi assicuro nulla ovviamente, però non mi insultate che sono sensibile Ma c'è anche una coda? O parte subito, attenzione Bus della battaglia in partenza, che cazzo vuol dire? 6, 5 Ok c'è un bus, c'è ragazzi io nemmeno le live vi ho guardato Ho visto soltanto che piace a molte persone, dico perché non può piacere anche a me? E allora ci sto provando Allora ho lo spazio per saltare, però direi che è presto vero? Eh vabbè sì, più o meno ho giocato qua Ragazzi vi ripeto, io non ho mai giocato a questo gioco, quindi sarò scarso, non so nemmeno quanto duro Io trovo come butto Ma direi proprio, adesso Dove sta pendant qua? Olè, ok ragazzi devo dire che comunque graficamente è abbastanza figo Io devo dire che da qualche cosa che ho visto, anche se vi ripeto non ho visto video live Mi sembrava un gioco con la grafica da mierda Però a quanto pare è abbastanza carina Ah ma le macchine ragazzi le possono portare? Ma sapete che io non so proprio un ghezzo C'è tipo quella della pula Ragazzi io non so nemmeno come si spara, non so nemmeno un comando Accogliamo, come si switch l'arma? Così Ok Che è sta roba? Una pozione Pozione scudo Ma raga io vi ripeto non so un ghezzo Ok così si pira Cioè io probabilmente ragazzi morirò dopo due secondi Però sta a voi con un like a darmi la forza giusta per andare avanti Ok presto dei proiettili che non so che proiettili so Che è sta roba? Falò comportivo, noi proprio vediamo ma non so che ghezzo serve Ok Cioè ragazzi io la sto giocando un po' come fosse un Call of Duty E roba così Mi vado a prendere io le persone Anche se avrebbe esso un gioco Oh più stealth Oh 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 mio No raga io non so proprio giocare Diciamo questo Lino Rapollini mi ha ucciso Vabbè raga niente Faccio abbastanza pena quindi proviamo a cercare una nuova partita Ok ragazzi siamo sul nuovo bus qui E dobbiamo cercare stavolta di giocare un poco di più Allora con la M diciamo che vediamo la mappa Ok io cado stavolta a magazzino muffito Si dice muffito ma che cazzo sono in guai? Vabbè tra poco la gente già si butta Eh guarda come si buttano Guarda come si buttano stai persone Ok raga Nuo ci buttiamo qua e tutto il resto sono dettagli Adesso diamo una bella capoccia da giù Quindi ragazzi vi ripeto io sono completamente nabbo Non so nemmeno se ci sono veicoli Che cazzo è F1? Se possono mettere barriere e le scale Ma che roba è? Oh mio dio Raga lo so che molti voi diranno Sei proprio nabbo Ragazzi non ho mai giocato Quindi non giudicato Ma c'è un modo per scendere più veloce? Io non so un cazzo Allora L'unica cosa che ho visto ragazzi Sono qualche parodia delle modi Con roba così Che si fa tutti i balletti Le cose fighe Ma più di questo non lo so Ma io posso picchiare gli altri Ma direi che mi avranno il culetto E noi scappiamo sopra Oh mio dio Ma che serve rompere le cose? Scusate ragazzi Guardate l'ignoranza Io rompo 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 Che cazzo serve? Per i materiali I materiali che mi servono per fare costruzioni Raga ovviamente per chi conosce meglio il gioco Magari nei commenti mi dite un po' come funziona Allora entriamo qua E vediamo che cazzo cazzo sta Oh munizioni techiche Non c'è stai manco l'arma per sparare Ma dai La save zona poi come Oddio che botta il microfono Mi sarete sconvolti Allora la save zona non me la segna nemmeno Oh Dite che non ho sparato a me Ah ok Voi si sarà creata Ok sono in save zona Ragazzi C'è comunque almeno questo Ok lì c'è un fucile E la Nama raccoglie subito subito Penso sia un pompa Credo proprio sia un pompa Non lo so Uno sul tetto Eh ma col pompa Oh mio dio Come si fa a cura Come si fa a cura Con la I Con la I per diventare Ma non ce l'ho la cura Ah quindi devo rimanere con questa vita qua Mi stai dicendo Eccolo Mi vuole Ok raga Mi ha fatto in volo Calcolando ragazzi che sono una pitta Traragacciando questo Voglio che nei commenti Mi scriviate Se volete altri video Su Fortnite Ovviamente un video veloce Per diversi motivi Uno raga La connessione va lentissima Quindi non posso fare video lunghi A meno questi inizi Due Ci teniamo a fare un video Dopo un giorno o dell'altro Perché ci teniamo a tenere Al tipo il canale Tre Volevo vedere Se siete a Fortnite Vi piace Quindi come sempre Sopra vi apparirà il sondaggio Volete Fortnite Si o no E poi ovviamente sotto Lasciate un bel pollice Detto questo Ci becchiamo al prossimo video ragazzi E ciao a tutti